Mi ricordo perfettamente dov'era, era a Bassano, stavo ascoltando Radio 24, la parte economica e commerciale, era collegata con la borsa. A un certo punto hanno detto che c'era un piccolo aereo di turismo che poi è andato addosso, oltre al centro, attorno a Tumelle. L'economista è uscito, è andato, perché prima era all'interno del palazzo, è uscito, e però non è un piccolo aereo, c'è qualcosa di strano. E ho visto l'aereo che entrava all'interno. È stata una cosa incredibile, nel senso che ho chiamato a casa su, con la voglia, e dopo apri CNN, e mi ha raccontato dal vivo cosa stava avendo. E penso che uno dei ricordi più indelebili della mia moglie è questo, è stata una cosa incredibile. Poi proseguo, tutto il bambino visto come è andato, è stata una cosa folla. Uno dei ricordi che non penso di poter cancellare in mia mente. Grazie. Grazie.